La nuova ondata di coronavirus causata soprattutto dalla variante Omicron ha messo in allarme tutto il territorio nazionale. Per questo in molti luoghi in occasione del Capodanno saranno adottate una serie di misure restrittive che si applicheranno da oggi fino al 2 gennaio, limitando la possibilità di festeggiare. Intanto qualche comune ha deciso di adottare misure maggiormente stringenti, come a Montorio Albomano, dove il primo cittadino ha deciso in via precauzionale di vietare i cenoni dell'ultimo dell'anno nei ristoranti e di imporre la chiusura dei bar alle 22.30. Maggiori restrizioni per i comuni terramani arrivano anche dall'ultimo incontro del Comitato Ristretto dei Sindaci, dove il prefetto Angelo De Prisco ha chiesto ai primi cittadini di vietare con delle ordinanze aperitivi in piedi fuori dai bar e il divieto di somministrazione di bevande alcoliche in determinati orari. Restrizioni che però preoccupano un poco il comparto di bar e ristoranti. Sono tantissime e oltretutto la situazione è nettamente peggiorata nell'ultimo giorno, perché se fino a due giorni fa pensavamo di contrastare una situazione oggettivamente più negativa del previsto con l'esplosione di contagio di ieri, probabilmente ci troveremo di fronte a un'autentica catastrofe economica. Le ultime ordinanze da parte dei sindaci sono molto restrittive, senza probabilmente già dall'aperitivo di oggi sarà bloccato. Speriamo che vada tutto bene personalmente, ho qualche dubbio sul fatto che il Movimento Giovanile possa recepire a pieno queste ordinanze. Il problema sarà più di ordine pubblico che non da parte della ristorazione dei pubblici esercizi. Per noi il problema è più che altro oggettivamente economico ed è grave. Questo danno economico come può essere recuperato? Alcuni comuni hanno annunciato dei ristori, noi ci crediamo poco perché potrebbero essere poche cose e sicuramente a macchia di leopardo e mai incisivi dovrà intervenire il Governo. Sicuramente, proprio non parlavamo di ristori fino alla scorsa settimana perché si poteva resistere, ma adesso tutto il comparto dei pubblici esercizi, ristorazione e turismo, non ce lo dimentichiamo, è entrato profondamente in crisi.